ciao ragazzi in questo nuovo video oggi siamo qui per una nuova challenge ragazzi oggi andremo ad aprire una team box ragazzi vedete qui 2010 2011 questa team box la faccio vedere meglio qui allora ogni giocatore sta solo andremo a tagliare un pacchetto intero quindi sarà una sfida molto brutta per me speriamo nei pacchetti che nel caso dovremmo andare a tagliare di non trovare nulla di importante così che è abbastanza ecco quindi ecco qui la team box ragazzi abbiamo aperto non danneggiato troppo lo scatolo no diciamo di no quindi andiamo ad aprire subito la team box gg allora ragazzi eccoci qui le nostre forbici eccole qui sono le forbici di di oggi che ci verranno qualche problemino allora diciamo partiamo subito da questi pacchetti qui omaggio erano stati prima tutti i pacchetti in aria li ho ripresi tutti tranquilli quindi partiamo da questo primo pacchetto omaggio non dobbiamo raggiungere sto solo se no it's a prank ragazzi ma davvero facciamo prima figurina in serie a germin bocca e sto solo partiamo malissimo partiamo oh questo è una doppione o spina pulgar ragazzi partiamo davvero male partiamo davvero male quindi prendiamo un pacchetto prendiamo quello la omaggio che è un po più bruttino prendiamo un pacchetto ragazzo ragazzi lo sto per fare lo sto per fare pacchetto omaggio fa malissimo fa malissimo fa malissimo fa malissimo che brutto ragazzi è brutto che brutto amma mia ragazzi che brutto che brutto brutto doverlo fare questo che brutto adesso andiamo ad aprire queste due metà ah che peccato ragazzi che peccato questo qua è un video dolorosissimo quindi vi ho trovato la maglia adesso dell'utinese i portieri del venezia lukic se non sbaglio del torino dabbo del benevento scudettini serie c che d'altro li ho divisi perfettamente a metà quindi sarebbero rincollabili e poi il codice che mi dispiace vabbè si qua li metto da parte a me ragazzi il primo pacchetto è già uno tagliato bruttissimo bruttissimo allora altro pacchetto sperando non trovare altri giocatori di sassuolo briga poi squadra femmine che penso mi manchi thomas stracoscia da lazio però penso di averlo già trovato uuuu questo è bello alexandro alexandro ci sta un tot alexandro e poi goran pandef alexandro ragazzi ottimo 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 alexandro altro pacchettozzo ragazzi siamo già al terzo siamo già al terzo pacchettozzo quindi giocatori io e femminile che ho già trovato la squadra al completo del benevento non male uuuu no però federico chiesa già ce l'ho doppione federico chiesa doppione no tre pacchetti due giocatori di sassuolo ragazzi no vabbè no vabbè io giocatori di sassuolo ne ho trovati pochissimi in più di cento pacchetti so già tre ragazzi oggi siamo già tre giocatori di sassuolo una roba assurda assurda dobbiamo tagliare due pacchetti dobbiamo tagliare dobbiamo tagliare due pacchetti no 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 che dolore che dolore che dolore no il mio pacchetto il mio pacchetto no gli ho tagliato la testa Luca Pellegrini poi i giocatori del Pisa Hackback Pro della Lazio Medel del Bologna uuu questi album qua però ci potevano servire vabbè ragazzi devo dirvi la verità non sono neanche figurine ci stanno dando particolarmente importanza non è che sono queste grandi figurine queste qui che sono uscite questi due pacchetti comunque ne dobbiamo tagliare anche un altro purtroppo ragazzi perché io sono onesto e li taglio di fronte a voi non faccio queste cose quindi altro pacchetto tagliato storto questo vabbè vediamo un po' allora questo qua i due insigni mi sembra già ce l'ho poi Terraciano Ricci del Sassuolo ma ragazzi ma io non ce la posso fare un altro giocatore del Sassuolo no ho bevuto lo stemma però facciamo che questi qui non valgono perché sono usciti dal pacchetto tagliato questi qui ragazzi non possono valere perché sono usciti dal pacchetto tagliato se no siamo in tutto il video da tagliare le pacchette quindi Maglia del Crotone questo qua è un altro pacchetto buono poi Gioco del Frosinone del Verona scusate Arturo Vidal dell'Inter che ho già trovato quindi il doppione poi degli album che non so se o mi mancano lo scopirò e poi gli scudettini che ho già trovato quasi completato gli scudettini Terracica, Sertana, Catania, Catanzaro e Cavese ok quindi ragazzi altro pacchetto non so quanti siamo comunque apriremo tutta quanta la team box oggi allora Maitè del Toro Mandragora dell'Udinese Alberto Urso che ho già trovato nell'ultimo video se non l'avete visto andatelo a vedere poi Vulich del Crotone Lasagna dell'Udinese che non so se ho già trovato e poi il codice ve lo faccio anche vedere eccolo qui ok quindi anche questo pacchetto nessun gioco del Stassuolo però comunque quelli che abbiamo trovato del Stassuolo sono una cosa assurda non ne avevo mai trovati così tanti allora Antonio Candreva che penso di avere già Gioco di Selenitana che abbiamo completato già però uh Elmas mi manca Elmas se non sbaglio mi manca quindi buono poi Scolettini Serie C magari mi manca solo uno di Scolettini Serie C quindi magari sono questi uh Dries Mertens però è un doppione Dries Mertens l'ho già trovato tre volte a dire il vero ok ragazzi sono gli ultimi cinque pacchetti compreso questo quindi spero di non doverne tagliare altri ovviamente allora Maglia del Genoa poi Giocatori della Reggiana Alexis Sanchez dell'Inter che ho già Manolo Gabbianini che mi dovrebbe mancare Juan Musso dell'Udinese e il codice eccolo qui ok ragazzi comunque dopo questo video qua registrarò anche quello lì dove incollo le figurine che piace molto quindi uscirà questo qui di lunedì voi starete vedendo questo video qua di lunedì io lo sto registrando di domenica quindi ieri per voi poi quindi Sinisa Mialovic del Bologna che ho già squadra del Milan che ho già Kaisedo che non so se ce l'ho già Marcello Brozovic Pereira del Crotone e il solito codice quindi ragazzi i giocatori di questo solo non se ne intravedono più per il momento Smalling Combulato difensore centrale della Roma di fila giocatori della Sarnitana che abbiamo già completato però Rossi Manuel Reina della Lazio Igor della Fiorentina e il solito codice penultimo pacchetto ragazzi penultimo pacchetto Mattia Zaccanni del Verona eccolo qui poi Berami del Genoa Paolucci Mazzocco e Morosini della Virtus Entella lo Stemma del Monza che non so se ho già trovato penso di sì Deolofeu dell'Udinese e il solito codice ragazzi ultimo pacchetto di questa challenge che ci ha fatto tagliare ben tre pacchetti di calciatori chissà che non ce ne faccio tagliare altri quindi giocatori da Reggiano Muriki della Lazio poi i giocatori dell'Ascoli che sono Leali Sar e Brosco poi Tamese del Verona e Album iniziali che ho già trovato più volte e il fine il solito codice che vi lascio ok quindi ragazzi che dire questa challenge è finita abbiamo tagliato ben tre pacchetti ecco qui il residuo di uno eccolo qua quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su iscrivete al canale perché è l'unico modo che avete per supportarmi veramente quindi mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel commento suggeritemi qualche challenge che volete che faccia mi raccomando prenderò spunto nei vostri commenti e condividete il video se vi è piaciuto e mi raccomando in descrizione vi lascio sempre il solito link dei miei social se volete seguirvi quindi ragazzi io vi saluto ci vediamo al prossimo video e ciao ciao